Un secondo concetto di beneplacito noi lo dovremmo tradurre con preferenza. Quando una persona nel mondo ebraico compie la volontà di Dio, lui è oggetto del razzon di Dio, della eudochia, del beneplacito divino. Chi sono queste persone? Queste persone sono coloro che osservano la Torah, la legge, e coloro che si occupano di tutti quelli che hanno bisogno, sia bisogni fisici, sia bisogni psicologici, sia bisogni morali. Quest'oro sono le persone preferite da Dio. Se voi leggete, per esempio, il capitolo 35 del mio amico, del Siracide, a un certo momento lui presenta la vedova che viene imbrogliata da tutti, schiacciata da tutti, derubata da tutti. e viene presentato l'orfano che viene trattato alla stessa maniera. E dice che colui che si prende cura di questi due ultimi della società ebraica è oggetto dell'eudochia di Dio. Osserva la legge, non osserva la legge, lì non viene detto. Viene solo detto che è oggetto dell'eudochia di Dio chi si occupa di queste persone schiacciate dalla società. La volontà di Dio fa parte della razzon dell'eudochia. È solo una fettina. Quindi Selema non esprime totalmente il concetto di razzon o eudochia. Vediamo che cosa esprime. Allora, per capire che cosa esprime si prende una concordanza, si va a vedere quante volte Matteo adopera la parola Selema, volontà, e vediamo come la usa. Oltre al nostro caso, Matteo usa queste questa espressione in altri cinque brani. Il primo lo troviamo nel discorso della montagna. Siamo alla linea 30. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Non chiunque prega. Entrerà nel regno dei cieli. Gesù dirà che la preghiera è importante. Nel regno dei cieli non si entra senza pregare. Ma la preghiera non è sufficiente. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. in quel giorni molti mi diranno Signore, Signore, non abbiamo forse profettato nel Tuo nome? Nel Tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel Tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Sono parole durissime. Io posso fare anche miracoli, ma non è detto che io sia salvo. Io posso fare anche l'esorcista, ma non è detto che io sia salvo. Allora io dichiarerò loro. È interessante? Gesù sta facendo il giudizio. Io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Wow! Quindi fare miracoli è iniquità. Sì! Quando questa azione apparentemente sacra non è accompagnata dall'adempimento della volontà di Dio, cioè l'obbedienza ai Suoi valori. Questo sta dicendo. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio, eccetera, eccetera. In questo caso la volontà di Dio riguarda l'aspetto morale, teologico della vita della persona. Volontà, se vogliamo tradurre in termini da bambini, sono i comandamenti. Nel cristianesimo ce ne sono solo due. Credere e amare, questi sono i due comandamenti. Siamo alla linea 37. Anche qui lo stesso aspetto teologico morale. Gesù sta predicando, c'è sempre qualcuno puntuale che ti rompe l'anima e anche lì qualcuno va da Gesù mentre sta predicando e gli dice guarda che ci sono qui fuori tua madre e i tuoi fratelli. Ricordiamoci che Gesù di solito non predicava nei prati e nelle colline predicava in sinagoga e quindi la madre di Gesù e i suoi parenti erano lì fuori. Lo avvisano e a lui girano un po' venerdì perché Gesù non era così dolce come nei santini che avete nei vostri libri di devozione e risponde chi sono mia madre e i miei fratelli perché chiunque fa la volontà del padre mio che è nei cieli egli è per me fratello sorella e madre. Siamo sempre nell'ambito della esecuzione di ciò che Dio comanda Matteo capitolo 18 Che cosa vi pare se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico se riesce a trovarla si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite così è volontà del padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. qui ci troviamo di fronte a una novità esiste una volontà di Dio che ti propone dei valori da vivere ed è una volontà teologico-morale di qui invece abbiamo un altro tipo di volontà e la volontà che Dio ha che ogni cristiano sia salvo quei piccoli guardate che siamo noi questi piccoli sono i discepoli di Cristo questa è la sua volontà che nessuno di noi vada perduto nel penultimo brano noi troviamo ancora la volontà presentata come una volontà teologico-morale chi dei due ha compiuto la volontà del padre dunque Gesù aveva appena detto questo il padre ha una vigna ha due figli dice al primo vai il primo risponde sì ma non è andato secondo dice ufa però poi ci va chi dei due ha compiuto la volontà del padre e in questo caso la volontà è ovvio teologico-morale perché si tratta di una volontà che è orientata all'agire dell'altro e Gesù disse loro in verità io vi dico pubblicani e prostitute vi passano avanti nel regno di Dio Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto quindi voi siete quelli che dicono sì e poi non fanno un caesar prostitute e pubblicani dicono no alla legge perché si comportano da cani però alla fin fine riconoscono il loro errore non diventano santi come voi però riconoscendo il loro errore tentano di cambiare non ce la faranno difficilissimo che ce la facciano possono farcela alcuni bene costui costoro vi precedono nel regno dei cieli voi al contrario avete visto queste cose ma poi non vi siete nemmeno traduzione sbagliata convertiti così da crederli l'ultimo è il brano del Gezemani che abbiamo già accennato presi con sé Pietro e due figli di Zebedeo Giacomo e Giovanni cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate con me andò un poco più avanti cade faccia a terra e pregava dicendo padre mio se possibile passi via da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu e che cos'è quello che vuoi tu? linea 44 solo che la linea 44 questa salvezza è per questi piccoli mentre la linea 55 è per tutto il mondo vediamo un poco voi conoscete benissimo il Vangelo di Giovanni e al capitolo 6 dopo che Gesù ha fatto il miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci nella sinagoga di Cafarno c'è una discussione infinita dentro a questa discussione che viene fatta sulla manna e Gesù poi dalla manna passa al suo corpo e al suo sangue il passaggio è fatto così la manna dal cielo non è quella che hanno ricevuto i vostri padri ma io sono la manna dal cielo perché Dio che mi ha fatto venire a voi il mio corpo e il mio sangue sono fatti per essere mangiati e bevuti e lì Gesù dice una cosa estremamente seria dice che quel corpo e quel sangue quel corpo viene offerto e quel sangue viene versato per la salvezza del mondo al 44 noi abbiamo un'affermazione che riguarda i discepoli di Gesù nel Gesemani questa volontà di Dio che vuole la morte del figlio è una volontà che è orientata alla salvezza di tutti noi dunque abbiamo esaminando l'uso che ne fa Matteo del termine sede ma volontà abbiamo scoperto che esistono due volontà la volontà teologico-morale e la volontà salvifica dentro la volontà salvifica troviamo o troveremo o facciamo il riassunto di tutto il Nuovo Testamento è la stessa cosa ha due valenze a sua volta volontà teologico-morale una cosa volontà salvifica la salvifica si divide in due momenti la volontà teoretica lo dirà anche San Paolo Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e la volontà operativa Dio agisce nella storia vi ricordate Razzon qui noi troviamo in questa parte della volontà di Dio quella capacità che Dio ha di gestire la storia di ciascuno di noi per questo motivo niente di ciò che viviamo è poco importante tutto ciò che viviamo è importante Paolo lo dirà tutto coopera al bene per coloro che amano Dio e quando si dice tutto non si esclude niente anche il peccato Don Renato sì noi che siamo dei puritani intellettuali diciamo orrore come Paolo fa a dire che anche il peccato coopera il bene il peccato è male in sé il male non coopera mai al bene ignorant esamina la vita del buon ladrone se non avesse combinato i disastri che ha combinato non sarebbe stato condannato a morte ma se non fosse stato condannato a morte non sarebbe successo quello che è successo oggi sarai con me in paradiso forse abbiamo bisogno qualche volta di fare un po' più di silenzio e di capire meglio le cose non con la logica greca ma con la sapienza semitica senza escludere l'una senza assolutizzare l'altra e allora comprendiamo che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio naturalmente questo è un dato importantissimo dicevo per cui tutto ciò che viviamo tutto ha la sua importanza noi invece rimaniamo colpiti dalle cose più eclatanti una vittoria una riuscita la sconfitta la vediamo come una povertà una perdita mentre invece no tutto ha un senso positivo la nostra sensibilità giustamente dice questo mi piace questo non mi piace ma la sensibilità è solo un aspetto della valutazione di ciò che accade quindi facciamo bene ad ascoltare la sensibilità facciamo male ad assolutizzarla e a dare alla sensibilità l'ultima valutazione del vissuto nessuno ci ha abituati a questo neanche i miei gesuiti io sono stato educato da mio padre e da mia madre prima in seminario poi dai benedettini in terzo terza fase e dai gesuiti nell'ultima fase che è stata molto lunga perdura tutt'oggi nessuno ti insegna questo devi tu impararlo leggendo e rileggendo questo testo misterioso che è la scrittura e allora impari e allora ti accorgi che alcune cose non tutte diventano molto più chiare prendono molto più senso per cui quando nella storia che per certi aspetti anche si ripete torni a vivere certe situazioni non le vivi più con l'atteggiamento negativo ho subito una sconfitta io non valgo perché ti accorgi riguardando il tuo passato che quel momento grigio è un momento che prepara qualcosa d'altro non è capitato per caso leggere la propria vita in questo modo diventa carica di senso proseguiamo la nostra strada naturalmente quando io leggo un testo lo devo leggere nel suo contesto è una delle primissime leggi dell'ermeneutica lo stolto dice Dio non esiste Salmo 14 lo stolto dice Dio non c'è se io mi fermo al Dio non c'è e la Bibbia parla di Dio e dice la verità su Dio allora devo negare l'esistenza di Dio perché lo dice la Bibbia no leggi il contesto il problema è finito sia fatta la tua volontà si trova in un contesto quale contesto non quello successivo perché se voi notate nelle prime domande del Padre Nostro sono cose che Dio deve fare non noi nel secondo contesto nel seconda parte del Padre Nostro ciò che si chiede riguarda noi il pane quotidiano il perdono dei peccati la tentazione sopra riguarda Dio sotto riguarda noi sia fatta la tua volontà e l'ultima parte del sopra e quindi il contesto successivo non è così cogente così stringente come il contesto precedente e nel contesto precedente si dice venga il tuo regno adesso riusciamo forse a capire meglio il legame fra questi due e quindi anche il significato reciproco che si scambiano queste due espressioni venga il tuo regno sia fatta la tua volontà se la volontà di Dio è quella volontà salvifica che vuole tutti gli uomini salvi che vuole che noi cristiani nessuno di noi vada perduto e dall'altra parte la sua volontà è quella che guida la storia di ciascuno di noi della chiesa dei popoli noi riusciamo a capire che il regno di Dio forse è più complesso di quanto pensiamo non è il miracolo il regno di Dio il miracolo è solo un segno uno dei segni che manifesta l'esistenza di questo altro mondo naturalmente la volontà di Dio è che noi partecipiamo a questa realtà che si chiama regno di Dio ed è per questo che vuole che l'uomo sia salvo ed è per questo che Dio guida la storia in un certo modo sicuramente quando ci si trova nel pantano fin qua questi pi pensieri Dio guida la storia non ci vengono ve lo garantisco noi preti insegniamo alla gente che quando stanno per morire chiedano perdono a Dio quando nel 2010 in piazza Venezia Roma un furgone mi ha beccato nelle strisce pedonari e mi ha fatto fare un volo di 5 metri mentre facevo il volo l'incosciente che vi sta parlando non ha chiesto perdono a Dio ha detto che bello è volare e poi quando sono caduto come un pero ho sentito dei dolori non simpatici e ho detto ma guarda che scemo io insegno agli altri a chiedere perdono a Dio nel pericolo e io non l'ho fatto perché non viene spontaneo si vede che il padre Temo sapeva che non ero pronto dunque il regno di Dio è questa realtà che viene fatta sperimentare al credente nella storia i miracoli sono un segno ma nella vita del credente ci sono tanti altri segni che noi pensiamo essere il caso che ci rimette davanti e molto spesso anche quando ci rimetti davanti diciamo il merito è nostro oppure beh insomma ho incontrato una persona e buonanotte non è così non è così nella logica biblica tu alla sera fai pure l'esame di coscienza come ti ha insegnato tua madre che è buona cosa ma soprattutto fermati e cerca di vedere che cosa hai vissuto e il vissuto non è solo ciò che avviene fuori dalla tua pelle ma ciò che hai provato dentro quali sono state le tue reazioni interiori perché molto spesso noi abbiamo una grandissima capacità di mostrare il volto sorridente e dentro siamo neri come il cul del Bobby quando la sera fate il bilancio non state tanto a badare a ciò che è successo fuori dalla vostra pelle anche quello è importante non si può dire di no ma è molto più importante ciò che avete vissuto dentro perché la solitudine l'incomprensione l'ansia purtroppo è nostra e fa parte del vissuto e tutto coopera al bene per coloro che amano Dio mentre li viviamo non siamo convinti di questo come gli ebrei non erano convinti quando erano schiavi a Babilonia che quello era un fatto transeunte che li avrebbe portati a una libertà nuova no no addirittura diventavano atei tanto per gradire tanto che il profeta Ezechiele entra in allarme e dice qua stanno perdendo la testa e il deutero Isaia lo stesso entrano in allarme tutti e due questi profeti e compiono il loro ministero profetico proprio per dare significato a ciò che stavano vivendo i loro correligionari bene fatta questa premessa noi allora ci chiediamo se questa volontà di Dio è legata al regno di Dio esiste un altro regno e la risposta è sì quale regno esiste se noi leggiamo con attenzione in maniera particolare il Vangelo di Giovanni esiste il principe di questo mondo e l'espressione principe di questo mondo non è un'espressione molto molto simpatica perché dice con chiarezza che cosa sia il principe di questo mondo se voi notate alla linea 64 Giovanni comincia ad essere citato dal capitolo 12 prima non c'è chi bazzica il Vangelo di Giovanni sa che il Vangelo di Giovanni si divide in due parti prima parte dal capitolo primo all'undici la seconda parte dal dodici al ventuno se voi notate si trova nella seconda parte e la seconda parte è occupata fate conto per due terzi dal discorso che Gesù fa ai discepoli nell'ultima cena alla linea 65 Gesù è in mezzo alla folla ci sono dei greci che vogliono vederlo non sono greci sono ebrei di lingua greca questi greci Gesù nel dialogo con questi signori dice padre glorifica il tuo nome rendi sperimentabili la tua presenza nella storia questo vuol dire glorificare il nome tu padre glorifica il tuo nome rendi sperimentabile il tuo nome nella storia il verbo doxazzo glorificare in ebraico si dice kabet kabet vuol dire essere pesante pesare sopra tu padre fai pesare sopra queste persone la tua presenza fa che si accorgano che tu sei qui venne allora una voce dal cielo ho già fatto questo con te lungo tutta la tua vita e lo farò ancora con te l'ho glorificato e lo glorificherò ancora non significa metterlo su gli altari vuol dire fare sperimentare la presenza di Dio io ho già fatto per mezzo di lui sperimentare gli altri la mia presenza nella storia e lo farò ancora questo è il significato di queste frasi di Dio a di Dio a Dio giun